Questo programma è offerto da Benvenuti per una nuova puntata di Medici Napoli, oggi una puntata speciale all'interno dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Napoli per una giornata di prevenzione e cultura del benessere con il gruppo della FIDOC, Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti. La nostra Presidente Antonella Laporta, alla quale chiederei di perché organizzare una giornata rivolta ai commercialisti e dalla popolazione. Riteniamo di fondamentale importanza supportare e divulgare la cultura della prevenzione, sia primaria che secondaria, come forma di contributo proprio al benessere collettivo. E soprattutto l'iniziativa nasce in sinergia non soltanto con il nostro ordine e con il CPO che ne sono stati i principali promotori, ma anche con enti esterni come la Fondazione Condorelli, nonché con il Comune di Napoli, con l'ordine dei giornalisti, perché altrettanto siamo assolutamente portate e impegnate nel divulgare la cultura della sinergia tra le diverse classi professionali per un vantaggio collettivo. E invece la dottoressa Bianca Bosco, che è il segretario della FIDOC. Che cosa è precisamente la FIDOC? La FIDOC nasce nel 2002 con lo scopo di valorizzare e sostenere l'attività della professione per tutte le donne, attraverso interventi sia di natura sindacale sia di natura sociale. Quindi attraverso convenzioni, ecco perché ci siamo mosse per sostenere questa iniziativa di Comune Accordo con l'Ordine dei Dottori Commercialisti. Ed ancora continuiamo la nostra intervista invece con la dottoressa Ornella Fratta, che è il tesoriere dell'associazione. Quali sono le opportunità per le donne commercialiste di fare prevenzione? La Cassa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti praticamente già di per sé tutela la donna e quindi anche la prevenzione, con degli screening che praticamente ognuno di noi ha possibilità di fare. Con la FIDOC praticamente si è data il là e quindi si è portata a divulgare questa opportunità molto nascosta. E invece alla dottoressa Annabella Cunto, che è consigliere della FIDOC ma anche della Commissione CPO dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Dottoressa, qual è l'importanza del gioco di squadra per promuovere la prevenzione? È fondamentale. Io qui gioco un doppio ruolo come componente del CPO e come FIDOC. Dalla FIDOC, cioè dalla CPO, è partita questa iniziativa molto interessante sulla prevenzione e il benessere della professione. È stato importantissimo questo gioco di squadra con la FIDOC, quindi coinvolgere più entità, chiaramente coinvolti sul problema della prevenzione e fare maggiore divulgazione sulla prevenzione. E ultima, ma ovviamente non ultima, la dottoressa Fabiana Di Lauro, consigliere della FIDOC. Chi volete colpire con questa giornata di prevenzione? Allora, diciamo che principalmente ci rivolgiamo agli uomini anche perché la sensibilità delle donne tende principalmente a portarsi più verso una prevenzione. Gli uomini invece tendono sempre a correre nelle loro giornate e quindi puntiamo principalmente a far capire quello che serve. È importante molto la prevenzione. Con il dottore Ottavio Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei giornalisti, parliamo di corretta informazione in sanità. Perché è importante fare una corretta informazione, verificare le fonti, non far passare le fake? Sì, assolutamente. Innanzitutto l'importanza di questa giornata va proprio sul terreno della prevenzione e della corretta informazione. Corretta informazione che naturalmente noi portiamo avanti in tutti i campi, nel settore scientifico, della sanità, naturalmente questo è particolarmente importante. Qual è il compito importante dei giornalisti, soprattutto oggi in questa fase di esplosione di queste fake news? No, diciamo che dilagano anche soprattutto sul web e soprattutto sui social. In giornalisti abbiamo una responsabilità in più, un compito in più, che abbiamo sempre avuto ma che adesso diventa ancora più importante e decisivo, che è quello di garantire la corretta informazione e di contrastare, di denunciare là dove ci sono le fake news. Oggi qui la giornata, appunto, assieme all'ordine dei commercialisti, assieme alla FIDOC, al Comune di Napoli, è molto importante. Noi dobbiamo continuare a portare avanti questo discorso sul terreno scientifico e fondamentale. Con la dottoressa Cristiana Di Giacomo, biologa e nutrizionista, quanto è importante la corretta nutrizione per mantenersi in forma? La corretta nutrizione è fondamentale per la prevenzione, perché con le scelte giuste del cibo siamo in grado di poter prevenire le patologie future e anche di mantenerci giovani. Qui abbiamo un esempio. Abbiamo un esempio perché la mamma della dottoressa ha 74 anni, ma mai lo avrei detto. Sì, buongiorno. Mangi bene da una vita. Continuamente mi dice quello che devo fare. Per mantenermi giovane. Cosa bisogna mangiare per mantenersi giovani, per mantenersi in forma e magri, ma non magri in maniera patologica, ma magri in maniera sana? Semplicemente seguire quello che è ormai il patrimonio immateriale dell'umanità, cioè la dieta mediterranea, quindi i dettami della piramide. Frutta, verdura, cereali integrali, pochissimi grassi animali e molto, molto vario, perché non esiste un alimento che da solo ci può dare tutto, ma poco di tutto ci salva la vita. Quindi mangiamo tutto tranquillamente, non ci proviamo di nulla, ma non ci abboffiamo. Esattamente, esattamente. Dottore Salvio Zungri, ortopedia meridionale. Che cosa sono gli esami baropodometrici? È un'indagine non invasiva che effettuiamo sul paziente a piedi scalzi, potremmo anche farlo a piedi con le scarpe, per valutare il suo sistema posturale in toto, sia in fase statica, sia in fase dinamica. Come dicevo, non è invasivo, pertanto lo possono fare tutti quanti, lo possiamo fare dai bambini piccoli dai sei anni in poi, e valutiamo tutto quanto il loro carico corporeo. Bisogna farlo come prevenzione o bisogna farlo come cura, questo esame? Beh, adesso si parla tanto di postura, è necessario farlo come prevenzione. Da là teniamo presente che i nostri piedi appoggiano sul terreno, è da là che abbiamo, capiamo tutto quanto, che ci sarà tutto quanto un sistema senso motorio. Pertanto lo vediamo già da quando abbiamo una calzatura che non è adatta al piede, o quando abbiamo un fastidio anche della pelle che si sposta all'interno della scarpa, di come contribuisce poi al nostro camminare, al nostro passaggio e alla nostra vita comune. Dottore Marco Palla, dermatologo, come si fa prevenzione per il melanoma e ogni quanto tempo bisogna sottoporsi alle visite per il controllo dei nei? Allora, la prevenzione è l'aspetto più importante per quanto riguarda il melanoma. Distinguiamo due tipi di prevenzione. Quella che raccomandiamo sempre ai nostri pazienti è controllarsi i nevi con una regola molto semplice che è la regola ABCDE che si racchiude in un semplice controllo dei nei valutandone l'eventuale evoluzione e cambiamento repentino qualora ci troviamo con delle lesioni che cambiano repentinamente in 3-4 mesi per quanto riguarda il diametro, la forma e il colore è opportuno sottoporsi ad una visita specialistica dermatologica e naturalmente chiedere un consiglio al dermatologo per un'eventuale diagnosi. L'altro aspetto fondamentale da non dimenticare è la prevenzione che dobbiamo effettuare quando andiamo al mare, quindi ci esponiamo al sole in questo caso utilizzare delle creme protettive che vanno da un valore di protezione SPF 30 o 50 ripetere le applicazioni ogni due ore, ogni volta che si esce all'acqua cercando di evitare gli orari centrali. È importante ovviamente che ogni paziente si sottoponga ad un autoesame che va effettuato una volta al mese o non una volta ogni due mesi e una visita di routine annuale. Dottoressa Velia Caccavale, consigliere del FIDOC, Federazione Italiana Donne e Dottori Commercialisti è presente anche lei alla giornata in qualità di organizzatrice ma in questo momento sta anche testando la possibilità di fare le visite e le consulenze, soprattutto le consulenze di screening che abbiamo messo a disposizione per la popolazione. Cosa ci dice di questa giornata? Sono molto soddisfatta, innanzitutto sono venuti in tanti commercialisti, giornalisti e anche amici che sono stati invitati, persone che sono state invitate perché chiunque poteva accedere oggi ha la possibilità di effettuare delle consulenze mediche e consulenze di screening. Abbiamo qui nella saletta media dell'ordine dei dottori commercialisti consulenze radiologiche, ecografie al seno, alla tiroide abbiamo anche consulenze posturali, diabetologo, cardiologo, dermatologi vari che si alterano nel corso della giornata, nutrizionisti quindi insomma è sicuramente molto interessante per tutti sta andando benissimo, sono tanti che si sono presentati e sono effettuando tutte le visite. Dottoressa Sonia Tamasi, radiologa Dottoressa, come si effettua la prevenzione attraverso la radiologia? Ma è semplicissimo, basta dedicarsi soltanto un po' di tempo perché l'ecografia che è il primo approccio diagnostico che possiamo avere per la prevenzione e la patologia oncologica ma anche nella prevenzione della patologia non oncologica quindi la tiroide e la mammella come alterata funzionalità o noduli della mammella che ormai interessano tutti veramente in maniera semplice, non invasiva ma l'ecografia sicuramente e poi ci sono altre metodiche un po' più impegnative che sono metodiche di seconda istanza e non bisogna avere paura degli esami di radiologia perché fa molto peggio, diciamo anche con le colleghe un cancro non diagnosticato che non una mammografia in più o un'ecografia in più ormai di larga diffusione la strumentazione radiologica per cui penso che sia accessibile a tutti e deve essere accessibile a tutti Dottore Enzo Esposito, capo di aggruppamento Campania del CISOM Dottore, che cosa è il CISOM? Il Corpo Eterno di Soccorso dell'Animalta è un'organizzazione composta da volontari medici, infermieri, psicologi e soccorritori che è pronto a intervenire nelle emergenze e nell'ordinarietà le emergenze parliamo da Lampedusa, catastrofi, terremoti, rischio idrogeologico oppure nell'ordinarietà in queste giornate di formazione e informazione come nel caso nostro di questi screening gratuiti che ripetiamo il successo della scorsa elezione fatto qui con l'ordine dei commercialisti Che cosa fa il CISOM quando si trova in una zona terremotata ad esempio? Beh, è un po' vasto il discorso negli ultimi terremoti abbiamo gestito dei campi per diversi mesi Regasi, Abruzzo, Bonporto e altre realtà si fa un po' di tutto in generale stiamo delle postazioni di primo soccorso poi gestiamo la mensa diciamo che poi sono delle direttive che ci arrivano dalla direzione nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile sono loro poi indicarci il settore in cui dobbiamo intervenire Dottoressa Celeste Condorelli, referente del Fondo Paola e Mario Condorelli perché promuovere una giornata di prevenzione aperta alla cittadinanza? Perché parlare dei temi di salute coinvolge tutti non coinvolge solamente alcune categorie ed è molto sui temi della prevenzione si basa sull'informazione quindi la nostra salute in gran parte è condizionata dalla nostra conoscenza da sapere cosa vuol dire gli stili di vita cosa vuol dire fare prevenzione e quindi è importante coinvolgere tutte le categorie professionali per acquisire consapevolezza Dottoressa Maria Luigia Vitagliano Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili della provincia di Napoli perché promuovere una giornata in cui si fa un convegno accreditato per i commercialisti e si parla di medicina e di casse di previdenza e poi un'apertura a tutta la popolazione con visite e consulenze di screening gratuite Sì, allora sono circa un paio d'anni che stiamo organizzando sempre più frequentemente queste giornate dedicate alla prevenzione e il promotore è il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli diciamo che l'idea è quella di diffondere tra i colleghi la cultura della prevenzione e dell'attività fisica perché la nostra è una professione molto sedentaria e molto stressata siamo sempre dietro a scadenze ad empimenti e trascuriamo quella che è la risorsa più importante dei nostri studi cioè la nostra salute perché praticamente se ci ammaliamo nessuno ci porta avanti l'attività e quindi siamo costretti ad avere grosse difficoltà lavorative per cui insomma grazie al nostro Presidente e a tutto il Consiglio che ci appoggia portiamo avanti questo progetto e speriamo che ci porti a qualcosa di buono Dottor Cosma Cosenza dirigente di primo livello dell'ospedale Loreto Mare reparto di ginecologia Dottore, quali sono le patologie che più spesso riscontrate per le quali secondo lei bisognerebbe fare una più accurata prevenzione? Sicuramente la prevenzione è importante in tutto l'ambito ginecologico noi come ospedale abbiamo la possibilità di visitare delle persone anche extracomunitari che purtroppo non hanno avuto la possibilità di prevedere programmi di screening particolari per cui ci troviamo molto spesso ad avere contezza di espressioni cliniche dovute a patologie che prima per noi erano completamente sconosciute e stiamo imparando non solo a conoscerle a diagnosticarle e a curarle accuratamente diciamo che i programmi di screening debbono essere sicuramente seguite da tutta la popolazione di sesso femminile e non solo per quanto riguarda il mio ambito ginecologico sicuramente la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse dell'HPV quindi le patologie virali che hanno poi un'estrengazione clinica con il tumore del collo dell'utero vanno assolutamente ben monitorizzate e ben condotte come metodica di screening e quindi una valutazione globale di tutte quelle che sono le patologie diagnosticabili con i metodi diagnostici che sono in nostro possesso quindi assolutamente questo tipo di iniziativa che si è svolta oggi all'ordine dei dottori commercialisti grazie al contributo di tante figure professionali che ci hanno messo veramente tanta dedizione e tanta accortezza nell'organizzare questo evento sono sempre assolutamente delle cose da dover perseguire perché l'unica vera possibilità in termini di precauzione e di salvezza e salvaguardia della salute della donna è proprio quella dello screening quindi che benvengano sempre questi tipi di manifestazioni a incrementare sempre la coscienza della prevenzione per la salvaguardia della salute globale dottoressa Rossella Trio biologa nutrizionista qual è il modo migliore per fare prevenzione per curare il proprio benessere con la dieta allora la corretta alimentazione prevede sicuramente le basi seguire le basi di una dieta mediterranea suddivisa nell'ambito dell'aggiornato in tre passi principali quindi ricchi di cereali integrali frutta verdura distribuzione corretta di tutti i nutrienti pesce come frequenza settimanale in 4-5 volte a settimana e soprattutto accanto a questo anche un'attività fisica corretta perché corretta alimentazione e stile di vita attiva sono sempre cardini alla base di uno stato di salute che identifica poi il soggetto nel suo benessere totale perfetto la ringraziamo invece chiediamo alla dottoressa Maria Pia Principe componente del CPO dell'ordine dei commercialisti ma anche utente oltre che promotrice di questa giornata sulla prevenzione e sul benessere da utente che cosa ha riscontrato come ha trovato questa giornata devo dire che l'organizzazione è stata perfetta ma non lo dico perché io in prima persona ho partecipato la trovo perfetta organizzata molto bene anche ovviamente i medici che vi hanno partecipato sono delle persone molto molto affabili che quindi mettono a proprio agio quindi io direi bene Dottoressa Lucia Auletta biologa nutrizionista velocissimamente qual è il segreto del benessere cosa dobbiamo mangiare per stare bene per stare bene noi dobbiamo mangiare tutto non dobbiamo privarci di nulla mangiare bene cucinare bene e cercare di mangiare in modo vario questo è il segreto perché il nostro corpo è una macchina perfetta e sa disintossicarsi quindi anche l'errore anche quello va bene tanto poi voglio dire basta mettersi a dieta basta fare una corretta alimentazione bere tanto ridurre il sale e il gioco è fatto quindi mangiamo bene mangiamo vario colorato profumato cuciniamo dei piatti belli colorati e profumati cerchiamo di non limitarci semplicemente al pesce bollito gli spinaci bolliti anche perché il verde e il bianco insieme non è che stanno molto bene piuttosto cerchiamo di colorare i nostri piatti esistono anche altri tipi di verdura ortaggi le carote i pomodori tutto bello colorato un bel piatto di pasta al pomodoro non ha mai fatto male a nessuno e gratifica un pochino più degli spinaci bolliti e pesce bollito quindi mangiamo colorato mangiamo bene è l'eccesso che storpia quindi il piatto di pasta va bene non il piatto abbondantissimo di pasta quello è scorretto e poi diamoci il tempo giusto per mangiare non lo facciamo davanti alla televisione non lo facciamo con un libro in mano non lo facciamo parlando al telefono mangiamo diamoci il tempo in compagnia soprattutto in compagnia o da soli come prevede la nostra giornata però sicuramente con il tempo giusto dedicando il tempo giusto alla pausa pranzo certo così abbiamo anche modo di masticare che è la prima fase e anche quella più importante della digestione grazie ancora a tutti per aver partecipato a una nuova puntata dai medici Napoli e alla prossima questo programma è stato offerto da grazie a tutti